Siamo pronti? Siamo pronti per giocare questa finale di Supercoppa? No, come in Capier Rosso? Come in Capier Rosso? Ma maledizione! Ma maledizione! E vabbè, c'è Lodi, c'è Lodi che c'ha 32 delucidità però. Isandro Martinez dal primo, tanto Basci che c'ha avuto un upgrade fantastico, in sei mesi ha preso più due. Dembélé, Dembélé me lo porto, da lotte c'ha 50 delucidità. Caioe però ragazzi, bisogna vincerla, bisogna vincerla. Al secondo tempo metto Vigorelli seconda punta e Colanco, me, me sento che segna, che torna Colanco. Me lo sento. Mi sento che torna Colanco. Cambia maglia. Così. Basta, basta, eh. Basta. Non ci ho fatto caso, ma gioca, Plaovice. Soprattutto Chiesa. Soprattutto Chiesa. Ci siamo? Stadio tutto milanista. Ah no, ci sta pure a metà. San Siro, perché San Siro? Scusate, ma una finale di Supercoppa, come quella di Coppa Italia, come quella di Champions League, eccetera, eccetera. Non dovrebbe essere un altro stadio. Non capisco. Vabbè. Vabbè. Noi siamo pronti. Calma, calma. E andiamo a sappia a sto terzo trofeo. Bello le out esterno. Capisce tutto il recupero. Maledetto Sar. Oh, Zaniolo, che non lo molla. Ma ancora è più Sar, ancora. Bravissimi. Dai. Vai, Vico, che l'hai visto. Niccolò. Niccolò, ci prova da posizione improbabile. Ma ho flasciato e ho visto Pioli sulla panchina del Milan. Siamo Giampaolo, non siamo Pioli. Non capisco. Mi si è messo a sbagliare, dai. Lancio fuori misura, palla recuperata senza problemi. Maledetto Chiesa. Mamma mia, Martinez, ti amo. Ti amo, Lisandro. Che cazzo stavi a fare, Manchester United? Prova un'emozione inglese. Vai, Vico. Vai, Vico. È tua, Vico. Niente. Andrisa. Niente, è Pioli, raga. Pioli. C'è sta Pioli sulla panchina del Milan. Ma perché? Giampaolo, dove sta? Non riesco a capire. Non riesco a capire questo bug. Riparti, riparti tranquillo. A me non c'è. Locatelli. Sbaglia, Locatelli. Bravo, Pellegrini. Che sapeva già tutto. Leao. Vicorelli. No, io dico però. Sveglia, eh. Sveglia, eh. Dai, che non so a nessuno. Ci stanno a capincazzo. Pellegrini. È buona. No. Non mi ha tirato. Non mi ha tirato. Maledetto. Dai, che sbagliano tutto. Sono stanchi. Sono arrivati. Sono arrivati. Perché rischiare così? Ecco, Martínez. Perché stiamo rischiando così di perdere i palloni? Zaniolo. Niente. E ferma tutto. Il pressing si fa sentire. Menoncello. Stacca bene. Vicorelli. Per il capitano. Per il capitano. Poi esultare siamo a tutti i tuoi tifosi. Dai. Ti distruggiamo. Ti distruggiamo oggi. Dai, Lorenzo. Dai, Lorenzo. Che a gennaio te vendo per forza. Sei arrivato. E ce l'ho un giocatore che potrebbe prendere il posto del capitano, eh. Ce l'ho. Si chiama... Non ve lo dico. Non ve lo dico. Vi dico solo che viene da Argentina. Vi dico solo questo. È buona. Guarda che ha preso Andrisani. Li mortacci tua. Il traditore. Li mortacci sua il traditore. Preso sta schiacciata bene il primo tempo, eh. Molto bene. Hanno fatto un tiro. Hanno fatto un tiro. Bello. C'è Kinn. C'è Vlauic. Bello. Zaniolo io direi che puoi anche lasciarci. Vai Colanco. Vai Colanco. Facci vedere di che pasta sei fatto. E io non toccarei nulla per adesso. Poi entra Lagroix e Dalot. Che ancora no ho visti. Eccolo, ho parlato. C'è Vlauic. C'è Vlauic. Esce Kinn e entra Lauic. Ecco. Mo' so cazzi. Mo' bisogna stare attenti veramente. Renan, quella era tua, eh. Chiacca ma vinga. Bravissimo, Conate. Calma. Bravo, Renan. Bravissimo. Era pure fallo. Menoscello. Incredibile esperienza. E' buona Pellegrini. Per Colanco. Colanco se l'allunga troppo. Controllo di palla da rivedere, eh. Ha 21 anni. E' normale. Deve crescere ancora il Regan di Lewandowski. Penso sia lui. 21 anni e 81. Penso sia lui. Polacco. Occhio a Vlauic. Hanno il pallone che può valere la parità. Attenzione. Ragazzi. Ragazzi. Non era Kinn. Era Camavilla. Vlauic che c'era dal primo. Nulla è perduto. Nulla è perduto. Supercoppa che è una coppetta, eh, ragazzi. Quindi. Se la vinciamo, bene. Se la perdiamo, non succede niente. Ecco. Mamma mia, Alisandro Martinez. Quanto ti amo. Quanto ti amo. Cambia tutto. Che culo. Occhio a Vlauic. Lo sapeva, Conadè. Non passi con Conadè. Lo sa. Ecco. E te pareva che dovevo fare una cazzata. E te pare... Mamma mia, che hai preso, costa mia. Mamma mia, costa ci tiene i pipi. Traversione che hai accettato. Guarda che culo. Guarda, guarda. Passa via questo cazzo di pallone. Occhio. Bravo, costa. Dalla qui. Dalla qui, tranquillo. Leao. Perché non giochi a pallone? Stai dentro dal primo minuto. Guarda, 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 Leao. Guarda. Non ci posso credere a questo. Quanto è scarso. Vai Dembélé. Vai Dalot. Vai La Croix. Non ci posso credere quanto è scarso questo. Vai pure Olmo. Perché non ho finito i cambi. Incredibile. Si andrà ai tempi supplementari se tutto va bene. Speriamo no ai rigori. Ma tanto non ci siamo mai nati i rigori. Abbiamo vinto, abbiamo perso. Dai, dai, dai. Siamo un po' Siamo un po' troppo. Bravissimo Dembélé. Bravissimo Dembélé. Bravo. Spassa via questo cazzo di pallone. Spassalo. Mamma mia costa. Ci tiene vivissimi all'ottantasesimo. Esce Vlauvić. E chi è entrato? Puato. E chi è? Via, via, via. Allontanare la minaccia. Dai, Vigo. Kamavinga. Bravo Dembélé. Intervento fondamentale. Ora. Ci andranno anche a giocare per 60 secondi. Nooo, eravamo ripartiti. Eravamo ripartiti, cazzo. Aiù è un maledetta, oh. E' peggio del Milan quando stiamo con la G.S. Maledetti. Maledetti. Siamo mai vinto. Mai. Bravo la Trois. Dalotto. Il primo pallone che tocca. Kovalenko. Olmo. E' buona? Nooo. Puori gioco. Da quanto è bello, mamma mia. Dai, eh. Dai che si può fare. Tienilo, Renan. Tienilo lì. Guarda che cubo. Guarda come sei passato. Mante vergogni. Mamma mia. Che rischio. Menoncello. A spazzare. Vai, Golanco, che ce l'hai. Hanno la possibilità della ripartenza. Rigorelli. Rigorelli. Occhio alla ripartenza pericolosa. Vede il movimento di Renan. Vai, Renan. In mezzo. Per Kovalenko. Ma come adesso è successo? Ma che è successo? Bellissimo. Menoncello. Maledizione. Dai che ci siamo. Siamo vivi. Siamo vivi. Kovalenko. E' buona. Kovalenko. Andrisani prende pure questa. Andrisani prende pure questa. Era buona. Mamma mia se era buona. Olmo. Niente. Ci riprova. Niente. Rigorelli. Niente. Niente. Dai, col secondo tempo. Non facciamo scherzi. Non andiamo ai rigori, ragazzi. Vi prego. Vi prego. Non andiamo ai rigori. La partita si è ribaltata. La partita si è completamente ribaltata. Ora siamo i padroni del nostro destino. I capitani della nostra anima. Ora si scopre la differenza. Tra ragazzi ed eroi. Menoncello. Dalot. Bravo Olmo che prende il tempo. Vai Dalot. E' buonissima Dalot per Vicorelli. La gazzella Vicorelli. Vicorelli in mezzo. Per Colanco che ne ci arriva, porca puttana. Ci arriva mai. Occhio al contropea di D'Aiugo che sono maledetti. Occhio. Sono maledetti. Neymar. Ancora campa Neymar. Ma mandatelo via. Mandatelo a casa. Puato. Alisade, sei fermato? Ti sei fermato, Alisandro? Che cazzo fai, Alisandro? Karaschelia. Karaschelia a Juve? No, però dai. Dopo dieci anni a Napoli. Nadatelo a Juve. Abbiamo preso gol in un momento proprio che non ci voleva. Il centodiciannovesimo. Il cazzo di Juve è diventato un problema. Vai Lagrua. Niente. Finale perso. Se ero un'altra persona, riavviavo la partita. Ma non sono un'altra persona. Sono Gian Paolo. Bene. Anche i festeggiametti. Abbiamo visto proprio un coltello che entra dentro la carne. Niente. Nemmeno la conferenza stampa voglio fare. Voglio andare così, battuto o giusto. Giusto.